Cari amici di RUNNER451NER, benvenuti a un nuovo episodio del nostro podcast. Chiaramente in questo periodo viene naturale parlare di quello che sta accadendo nel periodo del coronavirus. Siamo sempre a aprile 2020, viene naturale parlare un po' di tutto quello che sta succedendo, di quello che ci succede attorno. La polemica del correre e non correre credo che sia ormai, per fortuna, una cosa superata. Da una parte c'è chi non ha compreso che la corsa, come chi fa altre attività sportive, non è solo un hobby, ma fa parte di uno stile di vita. Dall'altro c'è chi con per troppo egoismo ha pensato di non dover cambiare nulla nel proprio stile di vita. Senza dubbio, e su questo proprio sono sereno e tranquillo, la colpa del contagio del coronavirus non è di chi corre. E sempre senza dubbio, ogni volta che succedono queste cose qui nella storia, c'è bisogno di prendersela come una categoria di untori. E' toccata i runner, un po' per colpa dei runner, un po' perché la gente ragiona per categorie. Per colpa di una parte dei runner, non dei runner. Perché per un primo periodo soprattutto hanno continuato a correre in gruppo. Abbiamo continuato, io non l'ho fatto, ma comunque siamo nella stessa barca. Abbiamo continuato a correre in gruppo e ho pensato che fosse una cosa che non ci toccasse quello che stava succedendo. Dall'altra colpa di chi ragiona per categorie, perché se io vedo due che corrono dove non devono, o anche dove possono, ma vicini, non posso pensare che siano tutti i runner che sbagliano. Serve di rottare la rabbia. C'è chi lo fa fare apposta, per distogliare l'attenzione su altri aspetti. C'è chi vuole fare il giustiziere. Prendersela con una categoria, facciamo finta che non siano i runner, in generale prendersela con una categoria, perché poi il riflettore su di sé li tiene semplicemente attaccando qualcuno. E sicuramente se gli si rivolge a questo tipo di critica, dice che c'è una forza superiore, un obiettivo maggiore che non gli interessa l'attenzione, ma chiaramente se uno non è interessato l'attenzione ha altri modi di, come dire, far valere le proprie ragioni. Ma ci deve essere anche un senso di responsabilità di tutti. Però il punto che vorrei toccare in questa puntata velocissima è questo. Siamo tutti nella stessa barca. Il problema del coronavirus tocca a tutti. Chi si contagia, chi no, chi ha una restrizione, tutti, delle libertà personali, chi perde dei cari e non gli può stare vicino, chi perderà, speriamo di no, ma chi perderà il lavoro o comunque avrà grossi problemi economici. Non sappiamo quanto durerà, ma siamo tutti, tutti nella stessa barca. Chi avrà la fortuna di essere sul ponte superiore, chi ha la sfortuna di essere nei livelli in cui è più facile a negare. Però siamo nella stessa barca e dovremmo essere tutte persone responsabili. Probabilmente non lo siamo, ma tutte abbiamo delle responsabilità. Ora, il concetto è di buonsenso. Smettiamola di ragionare per categorie. Smettiamola di dire che tutti i runner sbagliano, che guardate, dico una cosa forte, che tutti i medici siano dei santi, con ovviamente tutta la mia stima e il mio rispetto per quelli che stanno battendo in prima linea e che purtroppo muoiono solo perché fanno il proprio dovere, non è una mancanza di rispetto a questo, ma era una cosa un po' forte per dire non ragioniamo per categorie. Se io vedo uno alto biondo fare un furto, non penso che tutti quelli alti e biondi siano dei ladri. Chi ha processato della categoria nella storia è sempre sbagliato, per quanto in questo caso ovviamente sia un processo non forte. E smettiamola di fare gli sceriffi dai terrazzi anche, ma se vediamo un comportamento sbagliato, un assembramento di persone, piuttosto sì, chiamiamo i carabinieri o i igieni, insomma ci penseranno loro. Non dico di voltarsi dall'altra parte perché questo no, questo è l'errore al contrario. Ma anche sentirsi in dovere di giudicare, perché vedo uno a spasso e magari quello a spasso sta andando a fare un qualcosa, delle attività consentite, banalmente a fare la spesa. Poi ovviamente non facciamo la spesa tutti i giorni. Ma io non posso sapere cosa sta facendo quella persona, non posso sapere se ha un certificato dato dal medico, per cui è obbligato, come capita per alcune categorie, a fare attività fisica tutti i giorni per stare bene, a fare la famosa passeggiatria di salute che fortunatamente è garantita in tutta Italia. Perché è come prendere una medicina, anzi, molto più importante e molto meglio. Facciamo anche, qui difendo la nostra categoria, basta a pensare che fare sport in una corsa sia solo un passatempo. Purtroppo pensiamo che le attività che non producono denaro, almeno perché, oltre a chi lavora nello sport, perché io parlo proprio di attività personale, siano quelle che vengono dopo. E invece fanno parte della componente umana. Come ho detto altre volte, mente e fisico sono la stessa cosa, non si possono separare. Tornando al punto, il punto è basta ragionare per categorie. Le categorie, dalle categorie kantiane e del tipo iberiani, ci aiutano a ragionare più velocemente, a creare dei punti di fermo nei nostri ragionamenti, a riconoscere e a darci certezze. Tornando al punto della puntata scorsa in cui parlavamo di incertezza e disagio, però la famosa fare tuttavia un fascio basta. Nel senso che io voglio iniziare a dividere persone che si comportano bene e persone che non si comportano bene, che siano runner, cuochi, giardinieri, fabbri, medici, autisti di autobus e generali della finanza. Persone che evitano, anzi, favoriscono al 100% il distanziamento sociale, con persone che se ne sbattono, persone che fanno il proprio dovere, con persone che non lo fanno, persone che fanno di tutto per vincere questa battaglia, con persone che pensano che non sia una cosa loro. Questa è la vera divisione. basta prendersela con delle categorie, ma non perché c'è una persecuzione, caccia le streghe, chi se ne frega, perché è sbagliato, perché se io me la prendo contro le categorie, oltre a fare una vera ingiustizia, i giustizieri che se la prendono contro le categorie dovrebbero pensare che stanno compiendo un'ingiustizia, perché, questa è la mia teoria, poi si potrà sbagliare, io preferisco che ci sia un colpevole in libertà piuttosto che un innocente in prigione, e quando attacco una categoria prendo su tutti, prendo anche gli innocenti, questo è un aspetto che non si può sottovalutare. Inoltre, prendendo una categoria, distorgo l'attenzione sui comportamenti sbagliati individuali, e si creano delle zone d'ombra, oh, per fortuna che se la prendono con loro io posso continuare a fare il mio, no, poi è chiaro, probabilmente ci si è presa con i runner, perché, per i motivi che ho detto prima, poi perché c'è gente che non correva, si è messa a correre, ed è ridicolo, perché non puoi metterti a correre, iniziare a correre, perché non hai niente da fare in questo periodo, poi chiaramente è giusto, se hai permesso correre, non puoi vietarlo a chi non aveva mai corso, e permetterlo a chi già correva, però, a livello di buonsenso, per una questione di responsabilità, iniziare a correre a chi non ha mai corso, è quantomeno, come dire, fuori luogo, ecco, però, diciamo, le categorie creano delle zone d'ombra per chi non si comporta bene, eh, stavo dicendo, sì, scusate, sicuramente c'è l'aspetto che la corsa è stato, è quello sport che molti si sono messi a farlo, che prima non lo facevano, e quindi, a maggior ragione, c'è stato questo accanimento con i rami, e, dall'altra parte, è chiaro che, non lo so, un giocatore di golf, per giocare, deve andare a un campo, che deve essere aperto, e non sono aperti, o, giocatore di calcio, non può andare a giocare da solo, ci deve essere una squadra, quindi, è chiaro che sono degli sport, che era più complicato, continuare a fare, rispetto alla corsa, che è lo sport, più semplice, insieme alla camminata sportiva, che si poteva continuare a fare, e insieme alla bicicletta, ma la bicicletta, ha bisogno anche di più chilometri, di più spazio, quindi, tolto ovviamente, gli allenamenti indoor con i ruoli, quindi, ripeto, da una parte, c'è stata una colpa, ampia, di chi, dei runner, che, non hanno fatto niente, per evitare che, si prendesse con loro, dall'altra, come al solito, in questi casi, c'è bisogno, di sfogarsi con qualcuno, e poi, c'è chi si fa prendere, dallo stomaco, e c'è chi ci marcia, per avere attenzione, palladini della giustizia, che, non capisco che giustizia, vogliano ottenere, perché, in effetti, l'unica cosa che ottengono, è, un po' di attenzione, dalla loro clac, ma non vedo, che la sua giustizia, detto ciò, cerchiamo, prima di tutto, di essere responsabili, di noi stessi, di comportarci bene, e poi, a seguire, prima di, sparare sentenze, pensare, bene, se farlo, e poi, magari, evitare comunque, di farlo, ma, soprattutto, di giudicare, se proprio lo dobbiamo fare, o di valutare, forse che è meglio, perché, eleggersi a giudice, è sempre, dovrebbe essere sempre, una cosa molto più complicata, è un lavoro, su cui riflettere molto, se valutiamo, non valutiamo per categorie, valutiamo per comportamenti sbagliati, chiudo, quando, quando, si dice che si fa coaching, no, si fa coaching, si guida una persona, in un percorso, una delle prime cose, che si impara, è dare i feedback, ecco, dare i feedback, è complicatissimo, perché i feedback, non sono sulla persona, ma sono sui comportamenti, e il comportamento è sbagliato, non è la persona ad essere sbagliata, siamo in un ordinamento giudiziario, che fortunatamente, dovrebbe, poi ovviamente fa fatica, lavora per riabilitare le persone, sì, hai sbagliato, paghi, ma dopo che hai pagato, torni ad essere come me, e invece, ultimamente, la deriva che sei presa, è completamente diversa, hai sbagliato, basta, fine, non ce n'è più, non hai più speranze di redimirti, basta, e se non hai sbagliato te, ma ha sbagliato qualcuno, che è come te, anche tu non mi piaci, no, a me non piace vivere in un mondo così, e forse pensandoci bene, piace a pochi, anche perché poi, questa cosa dell'essere giudicati, o per un errore che si è fatto, magari si è pagato, e si è scontata la pena, o per un errore che ha fatto qualcuno, di simile a te, può toccare a tutti, ed è facile fare i figli, fino a che non ti tocca, ma quando ti tocca, diventa un grande problema, amici di runner 451, cerchiamo di rendere, questo mondo, o almeno questo periodo, migliore, buone corse anche in casa, grazie a tutti, ciao,